Dal libro del profeta Isaia Il tuo mio servo giustificherà molti. Egli si addosserà alle loro iniquità. Donaci, Signore, il tuo amore. In te speriamo. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Donaci, Signore, il tuo amore. In te speriamo. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Donaci, Signore, il tuo amore. In te speriamo. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Donaci, Signore, il tuo amore. In te speriamo. Dalla lettera agli ebrei Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, si avvicinarono Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato. Gli risposero Lo possiamo E Gesù disse loro Il calice che io bevo Anche voi lo berrete E nel battesimo in cui io sono battezzato Anche voi sarete battezzati Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra Non sta a me concederlo È per coloro per i quali è stato preparato Gli altri dieci Avendo sentito Cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro Voi sapete Che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni Dominano su di esse E i loro capi le opprimono Tra voi però non è così Ma chi vuole diventare grande tra voi Sarà vostro servitore E chi vuole essere il primo tra voi Sarà schiavo di tutti Anche il figlio dell'uomo infatti Non è venuto per farsi servire Ma per servire E dare la propria vita in riscatto per molti